Il transito di un sistema frontale a nord dell'arco alpino attiva un debole flusso umido dal mar Ligure con conseguente formazione di nubi basse sulla Toscana. Martedì 22 dicembre in Toscana cielo parzialmente nuvoloso per nubi basse più compatte sulle zone del nord dove saranno possibili deboli piogge sparse, venti deboli, mari poco mossi, temperature in aumento con valori superiori alle medie in particolare su costa e rilievi. Cielo nuvoloso e pioggia su tutta la provincia di Lucca nella Piana temperatura minima prevista 5 massima 15 gradi, in Versilia minima 10 massima 17, a Castelnuovo e zone montane minima 7 massima 15 gradi. Grazie per la visione!